Dopo l'anno più turistico di sempre che ha visto a Treviso tra gennaio e novembre 180.000 arrivi con un flusso di 356.000 presenze in città, è stato rinnovato il protocollo tra Comune e Camera di Commercio per la promozione e la programmazione turistica attraverso mostre, eventi culturali e sportivi da qui al 2026, anno che con le Olimpiadi Invernali e la candidatura di Treviso a Capitale Italiana della Cultura potrebbe diventare il miglior volano per la città. Sarebbe davvero un mix di opportunità sportive e culturali che potrebbero far crescere la nostra città, città che comunque continuerà a crescere grazie anche a questo accordo fatto con la Camera di Commercio, quindi una sinergia, una condivisione di progettualità e poi grazie anche alla partecipazione di tutti i privati della nostra città. Ma è proprio in relazione al coinvolgimento dei privati che parte la bordata del presidente dell'ente camerale nei confronti degli albergatori. Treviso negli ultimi anni si è dotata di un'ottima offerta di bed and breakfast e appartamenti per locazioni turistiche. Gli alberghi potrebbero fare di più. Per quanto riguarda poi la ricezione ovviamente qui invito gli albergatori a programmare, a dare insomma quello che un turista si aspetta in una città e in una provincia come Treviso e a Treviso manca un po' questa accoglienza di un certo livello. Questo è quello che mi viene ogni volta detto da chi ha un modo di incontrare che passa per Treviso. Le amministrazioni pubbliche continua Pozza sono al loro fianco per quanto di competenza anche organizzando eventi importanti come ad esempio il forum PIMES che l'anno prossimo porterà a Treviso rappresentanti di 21 paesi dell'America Latina. Con ambasciatori, con ministri, con autorità e ovviamente bisogna dare anche un'accoglienza. Non è che non ci siano per carità ma c'è magari chi vorrebbe qualcosa di più. Anche il Comune assicura il Sindaco farà la sua parte. Il privato investe a fronte di una programmazione e soprattutto di prospettive future. Questo accordo va esattamente in quella direzione perché oggi ci siamo reciprocamente presi l'impegno di continuare ad investire bene le risorse nel 24, 25 e 26 con la speranza che a fronte di queste rassicurazioni per il futuro anche i privati si sentano forti di voler investire nelle proprie strutture. Vogliamo far crescere anche le strutture alberghiere sia nel numero che nella qualità.